Una lettera al neo-premier Conte da parte dei familiari delle vittime del terremoto dell'Aquila del 2009, un'iniziativa partita dall'associazione Ilaria Rambaldi Onus. Non richiedete indietro la provvisionale data in seguito al processo della Commissione Grandi Rischi, questa la richiesta. Con la lettera si chiede in sostanza alla Presidenza del Consiglio di desistere da tutte le cause intentate o ancora da intentare nei confronti dei familiari delle vittime del terremoto del 6 aprile. In questi giorni la posta elettronica del nuovo premier Giuseppe Conte è stata riempita da lettere di questo tipo. Un'iniziativa che, come dicevamo, è partita dall'associazione Ilaria Rambaldi Onus, presieduta dall'avvocato Maria Grazia Piccinini di Lanciano, che ha perso la figlia Ilaria Rambaldi nel terremoto dell'Aquila e a cui la vecchia Presidenza del Consiglio dei Ministri, quella con a capo Matteo Renzi, ha chiesto la restituzione della provvisionale data in seguito al processo della Commissione Grandi Rischi, un processo che in via definitiva ha visto la condanna soltanto dell'ex vicecapo della Protezione Civile, Bernardo De Bernardinis, che ha avuto due anni di reclusione per omicidio colposo e lesioni, in relazione alle rassicurazioni infondate date alla popolazione aquilana alla vigilia del sisma. Lo Stato, dopo la sentenza di primo grado in cui erano stati condannati tutti i membri della Commissione, aveva elargito delle provvisionali. A seguito dell'assoluzione in appello di sei dei sette componenti della Commissione, con contemporanee stromissioni del processo di numerose parti civili costituite, lo Stato, con un atto di citazione, ha chiesto indietro i soldi. Fatti analoghi, sono accaduti ai familiari delle vittime della casa dello studente. Non solo abbiamo avuto lutti, non solo abbiamo dovuto sopportare sofferenze in mani, non solo abbiamo dovuto affrontare processi lunghissimi ed estenuanti, sentendo anche aberrazioni rispetto alla tragedia, ha detto l'Avvocato Piccinini. Adesso dobbiamo difenderci anche dallo Stato, che elargisce fondi a go-go per la ricostruzione, ma non riconosce il valore della vita, che è stata lasciata senza alcuna forma di tutela risarcitoria. Per questo, davanti al Tribunale Civile dell'Aquila, ci sono diverse cause pendenti. Di qui l'invito ad inviare mail a Conte, a cui l'Avvocato Piccinini ha anche mandato una lettera con richiesta di convocazione. L'Avvocato ricorda che aveva scritto anche sia a Renzi che a Mattarella, senza risposta.